Torna a riunirsi domani alle 19.30 in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Canicattì convocato dalla Presidente Ivan Tropia. All'ordine del giorno dei lavori figurano 14 punti, tra cui, dopo la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del Presidente di interrogazione, si parlerà dell'emergenza e disponibilità loculi dentro il cimitero di Canicattì, argomento sottoscritto da un quinto dei consiglieri, primo firmatario consigliere Maira, ed ancora la proposta di variazione del funzionamento del Consiglio Comunale e le commissioni consigliari proponenti i consiglieri del PD, primo firmatario del consigliere Antonio Maira, la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento dei servizi socioassistenziali proponente l'assessore alle politiche sociali Davide Gentile, il controllo finanziario degli enti locali, rendi conto 2013 misure correttive adottate dall'organo consigliare proponente il dirigente dei servizi finanziari a dottoressa Meri, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per l'anno 2016, proponente responsabile della posizione organizzativa numero 3 della terza direzione, l'architetto Sabotore Carlino, e il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio con diverse controversie.